no non mi pagate la connessione ragazzi non mi pagate la connessione lo so lo so lo so vi manda in pulsa 17 27 vi manda in pulsa vi manda in pulsa un problema una piotta e 10 così terza marcia terza marcia non ci sono problemi non ci sono problemi non ci sono problemi insegna a guidare quando il semafo ad o si fa così si fa così tac gli imbocchi qua diegite qua fa che liggi così 옷portato tutto fare lì ho spennato il tutto fratelli ho sporato tutto fratelli ho preso il muro frate le ho preso il muro fratelli tanti di conferma dei fratelli ho preso il muro fratelli te ti confermate fratelli ho preso il muro fratelli oh preso il muro fratelli oh preso il muro fratelli eh si fratelli ho preso il muro dai oggi dov'ha andare così fratelli oggi dov'ha andare così ragazzi mi siete salvati la diretta siete miardati fratelli no fratelli ho preso il muro non c'hanno problemi fratelli è così è 17 27 è così fratellino eccoci eccoci basta non ci sono problemi su diamo se ne andiamo segno un attimo però eccoci rega eccoci è così terror squad è 17 27 regalo sapete lo sapete è così doveva prendere il muro doveva prendere il muro era così era così era così ringazzate il cielo ringazzate il cielo che ho preso il muro non ho preso una persona è così ragazzi bisogna rischiare nella vita nella vita se non rischi non arrivi da nessuna parte non arrivi da nessuna parte mi raccomando questa diretta ragazzi vale ora vale ora ho preso il muro diretto bo 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 fratelli senti senti qua senti senti capito come si fa fratelli è così che fa è così è 17 27 fratelli è così è 17 27 fratelli se mi metti in giro devi abbassare la testa fratelli devi abbassare la testa ci devi avere paura a chiedermi la foto capito fratelli è così che funziona è così che funziona è così che funziona è così che funziona e che cazzo e fa un bocchino fratelli mi metti fa un bocchino che hai detto i bocchini quelli a doppia mano fratelli con due mani è così è così che funziona non ti preoccupare capito eh non ti preoccupare no non rosicare fratelli no non rosicare fratelli fermate che sa fa fratelli sa fare sceneggiare non rosicare a vedere io so che se te piavi il muretto con la macchina mia ti mettevi a piangere fratelli ti mettevi a piangere ma lo sai che c'è a quelli come voi che stanno a dire no già c'è stava il botto sulla macchina fratelli ho messo la storia cinque minuti fa fratelli la macchina stava sana ho preso il muretto allora stava una piatta e mezzo ho fatto ho fatto un'inversione a ua al volo un infospinto ho tirato il freno a mano e allora qual è il problema qual è il problema fratellino che c'è droga che cazzo vuoi qual è il problema fratelli non ci sono problemi quando c'è 17 27 in giro fratellino tutti a catena a partire dalla diretta di ieri sera che c'è